Mi si è rotto il forno, puoi venire a ripararmi il forno per favore? Ok Uh, molto veloce Mi ripara il forno per favore? Questo Ok, quello lì Ah, lei guarda anche la sicurezza vedo Molto bene Proviamo se funziona Proviamo se funziona ora Perfetto, l'ha aggiustato, molte grazie Ciao Arrivederci, mi manderai il conto per pagare? Ok, arrivederci Paggots Quattro